Il grande salto è avvenuto e Michael Ruben Rinaldi non ha intenzione di fallire. Il prossimo anno il Centauro di Sant'Arcangelo di Romagna farà parte del team ufficiale DucatiRuba.it che partecipa al Mondiale Superbike. Al suo fianco ci sarà il britannico Scott Redding ed entrambi dovranno puntare in alto con la V4 ufficiale. In stagione il Romagnolo ha messo da parte la bellezza di 166 punti validi per il settimo posto nella classifica. Il Ducatista risulta il primo e unico italiano nella top 10. Fino ad ora ha centrato una vittoria, un secondo e un terzo posto, tutti raggiunti nel GP di Teruel al Motorland d'Aragona in Spagna. Una bella soddisfazione per il portacolori del team Go11 che dopo tanta gavetta avrà la possibilità di giocarsi le sue chance per affermarsi in categoria. Dopo un appassionante percorso in Ducati, ha dichiarato il pilota, approdare nel team ufficiale è per me un onore, oltre che la conferma della qualità del lavoro svolto in questi anni. In Superbike al Barney Racing Team tornerà per gli ultimi appuntamenti del 2020 Matteo Ferrari. Il vice campione di moto e raccoglie il testimone lasciato da Samuele Cavalieri che nel weekend si giocherà le rispettive chance di conquista del titolo del Cib a Vallelunga.